Si è insediato questa mattina ufficialmente con il passaggio di consegne con Eric Fasolino il Maggiore Vitantonio Sisto, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia. Sisto, prima di approdare nella Piana del Sele, ha avuto esperienze in provincia di Catanzaro e nel nucleo investigativo di Prato. Il suo territorio arriva ovviamente da una disposizione del Comando Generale che chiaramente dispone del trasferimento degli ufficiali. Il Comando Generale ha deciso di mandarmi qui a comandare la Compagnia dei Battipaglia. Io ho capito che era sicuramente un'opportunità di cui sono felice, sono orgoglioso e ringrazio di questo incarico. Sono felice di essere qui, ovviamente l'esperienza precedente è stata un'esperienza entusiasmante, sono stato benissimo e penso di aver fatto anche abbastanza bene. Tutta la mia esperienza, la mia volontà e il mio impegno sarà dedicato da oggi a questo territorio, a cercare di aiutare la popolazione, a far sì che il cittadino si renda più sicuro e far percepire un'arma dei carabinieri, quello che poi in realtà è vicino al cittadino. Quindi il mio impegno sarà questo e la mia totale disponibilità a far sì che la popolazione si senta più sicura e possa vivere in maniera così più felice. Si è fatto già un'idea della situazione del comprensorio? Ma allora chiaramente ci vorrà un po' di tempo perché il comprensorio è molto grande, parliamo di una compagnia abbastanza grande, è una compagnia impegnativa quindi ci vorrà tempo. Chiaramente ho capito che è un territorio che ha un tessuto economico anche abbastanza attivo con delle realtà produttive che sono anche delle eccellenze come la famosa mozzarella, però chiaramente ci vorrà tempo per capire bene quelle che sono le problematiche e soprattutto per poterle affrontare. Ovviamente insomma io sono qui per questo e con i tempi giusti ci sarà la conoscenza piena delle varie problematiche. Cosa le ha detto il suo predecessore, il maggiore Eric Fasolino? Ma non mi ha detto nulla, mi ha dato solamente qualche indicazione, ovviamente lui è dispiaciuto di andare via, si è trovato bene e mi ha detto che mi troverò bene, ne sono sicuro, ne sono convinto.